Presidente, una breve pausa estiva per il Consiglio Comunale che si è lasciato alle spalle, decisioni importanti e tra qualche giorno si riprenderà sui temi più importanti per la vita cittadina. Sì, innanzitutto a rientro dalle ferie, fine agosto convocherò la conferenza dei capigruppo per iniziare a stabilire le date del prossimo e dei prossimi Consigli Comunali e saranno date importanti, il Consiglio dovrà assolutamente confrontarsi su delibere che riguardano la pianificazione economica finanziaria dell'ente, mi riferisco al consuntivo, mi riferisco al bilancio di previsione 2012, ovviamente prima di arrivare alla trattazione del bilancio di previsione occorrerà confrontarsi sul piano triennale dei lavori pubblici, quindi sono tutte tappe assolutamente importanti che andranno consumate in brevissimo tempo. L'obiettivo di questa accelerata è legata anche al fatto di dover e di poter dare alle commissioni di merito tutto il tempo che necessitano per avviare un confronto anche con la città, non soltanto con le parti politiche presenti in Consiglio, in ordine alla pianificazione urbanistica della nostra città. Sappiamo che da alcuni giorni la commissione urbanistica è in possesso di tutti gli allegati della proposta definitiva del piano regolatore generale. L'augurio è quello che in breve tempo si possa arrivare quantomeno a trasmettere l'atto in Consiglio. Il Sindaco Stancanelli ha dichiarato di essere stato in tempo sul PRG, la Giunta ha rilasciato il documento e con i tempi previsti, mentre dal Consiglio Comunale, specialmente dall'opposizione, dicono che non è così. Come stanno le cose? Guardi, il Sindaco ha consumato il passaggio che doveva consumare, ha trasmesso la proposta di deliberazione riguardante il PRG al Consiglio Comunale. Ora il Consiglio Comunale deve dimostrare di essere all'altezza della situazione.